I piacentini hanno riscoperto il piacere di viaggiare. Lo stop forzato causato dalla pandemia è alle spalle e il desiderio di trascorrere qualche giorno di vacanza, magari visitando paesi stranieri, è tornato a farsi sentire. Sicuramente è tornato in auge l'estero, torniamo a riscoprire tutte le destinazioni di lungo raggio che avevano subito un ralentamento negli anni precedenti. Grande ritorno degli Stati Uniti, che resta comunque la destinazione principe, però c'è stato un notevole incremento di destinazioni diciamo comunque importanti nel resto del mondo sul lungo raggio. Siamo ritornati a viaggiare in tutti i paesi del mondo. Oltre agli Stati Uniti, i piacentini nel 2023 hanno scelto anche il Mar Rosso che negli ultimi anni aveva subito un drastico calo, mentre per le festività natalizie ad andare per la maggiore sono state le città. Tutte le principali mete europee e comunque c'è stato un forte ritorno sulle mete diciamo tradizionali, al caldo, invernali. Fortunatamente è necessariamente da prenotare con largo anticipo per trovare quelle che sono le soluzioni migliori. si è ritornati anche quest'anno ad effettuare viaggi importanti non solo balneari, quindi comunque viaggi itineranti importanti, magari della durata dei 10-12 giorni che necessitano comunque di un periodo di ferie non corto. Il mercato dei viaggi si sta già muovendo per i primi mesi del prossimo anno, anche per poter usufruire di condizioni di trasporto più vantaggiose. Le persone si stanno muovendo in anticipo per prenotare le proprie vacanze e invernali e già primaverili. Peraltro si vede una riscoperta, una voglia di ritornare a fare dei weekend, magari anche il venerdì classico, venerdì domenica o anche giovedì domenica, per ritornare a scoprire mediamente tutte le città europee o italiane anche.